Inizio del mio nuovo show, stasera c'è Cattelan, ho chiesto aiuto al campione nazionale di lancio del peso, l'italo-americano Nick Ponzio. Nick Ponzio è sicuramente l'uomo da battere. Ora non rimane che lanciare il conduttore. Can you try to launch me? Of course I can do that. Stasera c'è Cattelan. Su Rai 2 in seconda serata! Ok, questo è quello che è andato in onda. Io che volo è un effetto speciale, non volavo veramente. Ma al primo Chuck nessuno aveva avvisato Nick che avremmo voluto usare un materasso per farmi atterrare dopo il suo primo lancio finto. Ma un drone fortunatamente ha registrato l'accaduto. Ecco quello che è successo. Ok, mi sta per lanciare. Nessuno l'ho avvisato. Ecco lì, perfetto. Ok. No, 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 no.